Oggi siamo a Susegana, è dalle parti di Conegliano in Veneto e c'è un castello stupendo e un trattore che sta passando là in fondo Oggi andiamo a vedere il castello di San Salvatore, si trova a Susegana in provincia di Treviso vicino a Conegliano dal punto di vista storico il castello è stato costruito fra la fine del 1200 e l'inizio del 1300 quindi possiamo dire che è stato costruito in epoca piuttosto tarda per i castelli che ci sono in zona tuttavia è veramente molto importante dal punto di vista storico soprattutto nella zona infatti qua era la famosa Contea del Collalto che era una famiglia nobile molto importante sia durante il periodo comunale sia successivamente durante il periodo del... insomma qua tutta la zona era sotto il controllo della Repubblica di Venezia quindi questo che è stato qui era strategicamente importante perché era sopra una collina quindi dominava tutta la zona e dall'altra parte ha un valore storico perché è stato diciamo tramandato dalla famiglia, da una delle famiglie più importanti della zona salutiamo tutti il trattore, ciao trattore! 치� divorceario o charger chi 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 Grazie a tutti.